Grazie Presidente, colleghi e signor Ministro, conoscete quanto noi teniamo a questo, chiamiamolo, inizio lavori. Le riforme per noi rendono più moderno il Paese e più inserito all'interno dell'Unione Europea. Il Presidente del Consiglio e il Governo tutti, tutto, ha dichiarato più volte di essersi dato una scadenza, quella dei 18 mesi, per provvedere alle riforme. Oggi è come se tutti si fossero accorti dell'importanza che ha una riforma come questa, l'affrontare una riforma come questa. Forse ce ne si è accorti anche per le pressioni e gli inviti che arrivano dall'Unione Europea, ma anche continuamente dal Presidente della Repubblica. Forse per noi questo Paese sarebbe già più moderno, sarebbe già più al passo col tempi, sarebbe già più inserito all'interno della Comunità Europea. Forse per noi sarebbe passato, e noi l'abbiamo votato, quel referendum che affrontava la riforma costituzionale nel 2006, ed oggi forse saremo qua ad affrontare questioni meno pesanti, ma solamente, solo ed esclusivamente, aggiornamenti. Non sono solo il taglio dei parlamentari o la risoluzione del bichemairismo perfetto, che come vediamo proprio in questi giorni, provoca tanti danni e tanti limiti a questo Paese. Noi sosterremo continuamente la questione del Senato federale, come sosterremo continuamente, e ancora di più oggi, un sistema macro-regionale che per noi è garanzia di identità ed è espressione del territorio, è garanzia anche dell'espressione territoriale degli uni e degli altri. E' falso, me lo si consenta dire, perché l'ho visto ancora in questi giorni, è falso dire che il federalismo ha provocato un aumento delle imposte. Sono stati tagli lineari imposti dal Governo e dal centralismo ad aver costretto gli enti locali ad aumentare le proprie imposte per far fronte ai servizi. Voi, signor Ministro, godete di una maggioranza ampissima. Godrete del contributo di alcuni saggi e non sono i provvedimenti ponte che avete portato fino ad oggi, non sono quei provvedimenti omnibus che avete portato fino ad oggi a far bene e a riformare questo Paese, ma sono proprio le riforme, le riforme stesse. Voi avete un'ampia maggioranza e dovete avere il coraggio di affrontarle. Utilizzate la vostra maggioranza, utilizzate i vostri ampissimi numeri, ma in pieno e stretto legame in collaborazione con i rami del Parlamento, ma soprattutto con i gruppi parlamentari. Qui non si tenta, lo dico ad alcuni che mi hanno preceduto, qui non si tenta di cambiare i principi fondamentali della Carta. Qui si sta tentando di rendere più moderno un Paese che è all'interno dell'Unione Europea, in maniera formale ed ufficiale, ma che forse ne è ancora fuori dal punto di vista dell'organizzazione e della struttura del Paese stesso. Noi daremo il nostro contributo, cercando di incidere sui tempi e sui modi, per far mantenere una delle tante promesse di questo Governo, cioè l'arrivo alle riforme nei 18 mesi. Ma saremo inoltre controllori, e lo dico soprattutto alla maggioranza, controllori di questa maggioranza perché chi bloccherà questo processo se ne assumerà le responsabilità. È troppo comoda parlare solo di legge elettorale, nascondendo invece le reali altre esigenze di questo Paese. Ci sono metodi per affrontare questa sfida, questo forse non è il metodo migliore, ma noi la sfida l'abbiamo lanciata tanti anni fa, e chi discute solo del metodo è perché non ha argomenti contenuti per affrontare questa sfida. Noi ci saremo e ne saremo protagonisti. Grazie.